Dal governo alla regione si lavora per fronteggiare la crisi e aiutare famiglie e imprese a sostenere i rincari. In campagna il governatore De Luca ha annunciato un piano per far fronte al caro energia con un pacchetto di provvedimenti per aiutare aziende, commercianti e cittadini. Aiuti considerati fondamentali per le attività commerciali, ma non mancano le perplessità. Per il momento è abbastanza difficile immaginare. Poi se noi aumentassimo i prezzi tutti come commercianti non servirebbe a niente. Sembra brutto da dire, ma l'ultima cosa è resistere. Abbiamo avuto tanti aumenti, quindi questa è una situazione che praticamente lascia un po' perplessi, in quanto è difficile andare avanti con questa situazione. Credo che sia molto importante che ci diano questo aiuto, perché se no in questo caso la situazione va sempre a renderci più difficile andare avanti. A pesare soprattutto il costo dell'energia, ma sono numerose le voci di spesa in aumento e che si ritiene sia essenziale frenare. Perché sono arrivate le bollette quasi raddoppiate, poi ci sono alcune cose che sono aumentate. Sostegni perché le imprese piccole, soprattutto come le nostre, stanno morendo come contributi per i dipendenti. Non ci servono gli aiuti, non ci servono i cali, ritornare un'altra volta alla normalità. Penso che le spese di corrente, le utenze sono troppo elevate. Aiutare soprattutto le famiglie monoreddito è invece l'appello dei cittadini. Dovrebbero arrivare i soldi, ma chi te li dà? Servirebbe un vero aiuto alle famiglie, soprattutto le famiglie monoreddito.